Adesso per fare un primo esempio concreto che mi viene, sapete benissimo che ci sono delle restrittezze legate all'utilizzo dell'acqua, soprattutto per quanto riguarda le strutture pubbliche che arrivano le più complicate e arrivano dall'Australia. In Australia si dice che per lo sciacquone dell'acqua deve risolversi con tre litri e mezzo di acqua, per cui tutti quelli che realizzano edifici e tutti quelli che operano nell'hardware hanno modificato i loro prodotti affinché questo possa avvenire. Il problema è quando inserendo poi un sanitario per cui, scusate proprio il concetto pratico, quanto questo poi sia in grado di assolvere la funzione con tre litri e mezzo d'acqua perché potrebbe non farlo e quindi moltiplicare l'intervento. Per cui, come dire, quello della certificazione del prodotto sia un tema molto interessante e soprattutto se pensate anche ai rubinetti dove già qualcosa in più è stato fatto. Ma questo può investire tutti gli oggetti del bagno. Un altro tema interessante è quello dei materiali. In realtà anche questo, su questo siamo abbastanza bravi, soprattutto noi italiani, nello sperimentare continuamente materiali. Secondo me, sempre parlando di design, design significa anche intervenire sulla produzione. Per cui, per esempio, poco tempo fa parlavo con un produttore di rubinetti che appassionato di moto ha iniziato a produrre una serie di rubinetti con le stesse tecnologie che si adoperano per la realizzazione di tubi di scarico delle moto. Questo è un altro, come dire, segno importante di apertura e sicuramente qui il design può operare un cambiamento all'interno dei vostri prodotti. Per cui, come dire, non solo una ricerca dal punto di vista dei materiali ma soprattutto anche per quanto riguarda l'aspetto produttivo dei prodotti. Altro tema che si ripete continuamente ma che non fa progressi è quello della disabilità in questo settore. Parliamo di benessere ma chi in realtà ne ha più bisogno di tutti sono, come dire, le persone disabili. Per cui anche lì siamo abbastanza fermi e in più, secondo me, il tema della disabilità nel momento in cui ci si sposta in un settore che è quello pubblico è molto più ampio. nel senso che, a mio avviso, in una struttura pubblica come potrebbe essere di ricettizia come quella di un albergo, un cane per cui un animale domestico che spesso viene con noi è un disabile perché non ha le possibilità e le capacità di svolgere le funzioni che riguardano il suo benessere, anche se proprio spicciolo, all'interno di una struttura invece che è fatta per un essere umano. Per cui, come dire, anche il tema della disabilità, se posto in maniera un po' più ampia, è un altro tema in cui il design dovrebbe, come dire, operare un cambiamento importante. Poi c'è un altro tema che secondo me è un po' più, come dire, meno pratico ma sicuramente interessante che è un tema di riflessione dove spesso noi progettisti ci confrontiamo ma che anche lì c'è una specie di cul-de-sac che è quello invece di quanto il pubblico e il privato sia importante quando si parla di benessere perché la storia ci insegna che il tema del benessere è un tema decisamente, come dire, pubblico, lo è sempre stato e che è stato addirittura differenziato da quello dell'igiene per cui alcune attività legate al benessere erano delle attività collettive e lo sono state per lunghissimi anni. Nell'ultimo periodo invece, come dire, questa operazione è diventata sempre più privata e nel momento in cui noi progettiamo dei bagni, vi faccio l'esempio di un bagno di una camera d'albergo in realtà progettiamo una struttura privata che però di privato ha poco perché ha un'utenza sconfinata per cui, come dire, il tema del pubblico e del privato all'interno del bagno secondo me ha bisogno anche lì di una riflessione in più Io vedo che ci sono degli aziende, ne ho vista una qui, per esempio, che ha portato il concetto della spa all'interno delle camere, scusate, il concetto della spa che è un concetto collettivo e pubblico all'interno di un ambito limitato, addirittura personalizzato. Per esempio questo è come dire, è come dare risposta a un'esigenza che secondo me c'è. Basta, insomma, volevo dare anche io un po' di stimoli, me li sono appuntati. Adesso quello che volevo fare è farvi vedere alcuni progetti dello studio per dare un firouge l'ho personalizzati. Vi racconto un po' dal primo momento in cui sono entrato in studio fino ai giorni nostri per cui vi faccio vedere un po' di progetti. L'ho fatto, come dire, fermando con l'attenzione su quello che è l'ambiente del bagno in realtà ed è interessante perché il primo progetto, io sono entrato in studio 15 anni fa. Lo studio era specializzato in strutture ricettizie nei alberghi e il primo lavoro con cui mi sono confrontato era questo grande albergo che stavano realizzando a Mestre. L'operazione era stata lunghissima a livello di progettazione architettonica come intervento. Noi dovevamo risolvere tutto invece in due anni per cui l'albergo doveva aprire dopo due anni dalla progettazione. Per cui il mio lavoro è stato proprio quello di disegnare i bagni. Per questo ho iniziato a farlo perché vi ho portato questo esempio proprio perché è sintomatico. Qui il tema era quello di riuscire a rispondere perché poi, come dire, quando si progetta tendenzialmente si cerca di rispondere alle esigenze funzionali ma soprattutto a quelle estetiche. Soprattutto per quanto riguarda noi designer vogliamo dare sempre qualcosa in più o fare riferimento al proprio codice artistico e quindi, come dire, partiamo con una volontà ma poi sappiamo che il cantiere è il vero, come dire, la vera cartina torna sole delle nostre operazioni. Per cui dovevo, insomma, con l'architetto Piva rispondere all'esigenza di realizzare un prodotto che fosse lo stesso sia per i bagni pubblici che per quelli privati e che questo fosse facilmente costruibile ma soprattutto fosse in grado di essere customizzato il più velocemente possibile. La soluzione è stata quella di risolvere il tutto con un'azienda che non faceva grandi numeri ma che aveva capacità e flessibilità nel rispondere alle esigenze dei designer per cui abbiamo studiato un prodotto che è questo che vedete che in realtà è un lamierino curvato casseforme che serviva ad accogliere il lavabo perché questo era un dettame di quelli che poi dovevano essere gli operatori dell'albergo che era quello di avere questi lavabi sotto piano che era una vecchia esigenza che per fortuna è un po' sparita per cui con questo elemento dovevamo nascondere la parte sottostante del lavabo e far sì che quest'operazione fosse ripetibile risolvibile per circa 300 bagni perché l'albergo tra bagni di camera e bagni pubblici erano 300 bagni per cui abbiamo lavorato con questa azienda e risposto con un prodotto che alla fine è stato premiato non solo perché ha risolto una che era un'esigenza di cantiere ma anche perché l'ADI l'ha premiato con un premio index che è l'antecedente del compasso d'oro per cui abbiamo risposto appieno a un'esigenza. Per passare a un altro tipo di complessità contemporaneamente a questo progetto avevamo avuto un incarico a Monte Carlo per un albergo molto più piccolo dove l'architettura era già stata realizzata per un albergo piccolo sia di dimensioni che come spazio camera sappiamo benissimo che il costo di queste camere è altissimo per cui dovevamo rispondere in maniera in cui facendo sì che il percepito di queste soluzioni fosse il più ricco possibile e anche un po' innovativo in uno spazio completamente ridotto. L'idea è stata quella di concepire dando alcune piccole soluzioni ma interessanti come ampliare l'ingresso della porta e portarla a due battenti. Questo è anche un progetto di 15 anni fa per cui perdonate un po' anche l'adattabilità delle immagini. Però il tema era quello di per esempio creare una porta d'ingresso con due ante oppure riusciva a risolvere la questione che per alcune culture che è quella di nascondere i sanitari necessaria per alcune culture ma non sempre fattibili nelle proporzioni e nelle dimensioni di un bagno pubblico realizzandolo in questo modo cioè facendo sì che addirittura il box della doccia servisse da filtro a questa zona. Un'esperienza molto interessante questo albergo perché è stata la prima volta che abbiamo operato, che abbiamo realizzato una spa e l'abbiamo fatto con un operatore. In quel caso l'operatore era Shiseido ed era come dire ovviamente un concetto di spa completamente diversa da quella di adesso, era molto più rilegata a delle funzioni come dire legata a un benessere estetico più che curativo per cui parallelamente alle camere abbiamo realizzato la spa direttamente con loro e con l'operatore. Sempre un edificio dove l'architettura come dire esisteva già e questo albergo che abbiamo realizzato a Bologna con una catena che era appena nata che era quella di un hotel. L'edificio in realtà era una banca per cui aveva tutte le complessità di un edificio pensato con un'altra funzione per cui come dire le soluzioni da adottare all'interno delle camere avevano una certa complessità, a di là del fatto che gli spazi pubblici erano ridotti ma questo andava benissimo perché rispecchiava un po' le esigenze della catena alberghiera, nelle camere non c'era una vera e propria tipologia e per di più gli spazi erano molto stretti per cui abbiamo iniziato a giocare sul fatto di costruire delle quinte e retroilluminarle e questo gioco l'abbiamo portato un po' ovunque nella camera perché permetteva di ampliare gli spazi e l'abbiamo portato anche nei bagni. E anche in questo caso l'albergo è stato realizzato gli interni dalla B&B però anche in questo caso il prodotto bagno poi è diventato un prodotto cioè è stato messo a catalogo con un'altra azienda. Anche qui l'idea di concepire un elemento che avesse la capacità di essere customizzato nella larghezza che rispondesse a tutte le funzioni limitato in piccoli spazi con questo gioco della profondità è stata un'esperienza tale ed efficace per rispondere a un'esigenza di cantiere. Dopo queste esperienze poi ho fatto un'esperienza proprio con una certa diretta completamente perché lo studio mi ha affidato la costruzione delle suite dell'hotel Esedra per cui è stato il primo lavoro che ho iniziato a fare da solo. Qui c'era una complessità nella complessità cioè bisognava realizzare una suite di 100 metri quadri concepita in un unico ambiente dove l'edificio è un edificio della fine dell'Ottocento realizzato da un architetto abbastanza importante romano che ha realizzato un po' di edifici nobili della borghesia romana e alcune piazze importanti per cui era vincolato l'unica cosa che si poteva fare in più questi grandi stanzoni di 100 metri quadri avevano dei bagni il cui ingresso era dato da una piccola porta che riportava questa dimensione umana da una dimensione di 6 metri 4 metri e mezzo a 6 tipica di questi spazi ma anche tipica della romanità in genere ripartava tutta una dimensione umana nel momento in cui si entrava nel bagno per cui l'idea è stata quella di concepire questi questi box che vedete che in realtà permettevano funzionavano da testiera del letto ma che permettevano di come dire costruire un oggetto davanti al bagno e di filtrarlo in un certo modo qui il tema che raccontavo prima cioè il fatto di realizzare un prodotto un realizzare un bagno che avesse il concetto di pubblico e privato fila benissimo perché all'interno di questi bagni ci veniva richiesto di realizzare sauna bagno turco doccia bagno tre lavabi eccetera per cui anche in questo caso come dire l'aspetto privato è un po' discutibile perché ha le dimensioni dello spazio pubblico e ha soprattutto le funzioni le funzioni riservate ad ambienti pubblici per cui quando dico che il tema diventa un tema di progetto anche nel prodotto dico proprio racconto proprio questo anche qui ovviamente alcuni elementi disegnati apposta per il progetto sono diventati poi prodotti a catalogo con altre aziende e così via per cui tutte le aziende le scusate le suite sono state disegnate e caratterizzate differenziate con dall'utilizzo di materiali e dalle proporzioni però tendenzialmente con questo tipo di concetto vedete questo è alcune suite un discorso un po' diverso invece è un progetto che abbiamo fatto sempre in italia a cagliari sulla struttura di un anche in questo caso di un edificio esistente perché era un vecchio edificio degli anni 80 delle telecomunicazioni selvaggiamente devastato nel tempo perché mai utilizzato un investitore privato abbastanza coraggioso ha comprato la struttura per trasformarla in albergo in questo caso il tema dell'acqua e del benessere in realtà proprio perché legato a una città dove c'è una forte presenza del mare l'abbiamo un po' esteso non solo all'ambiente delle camere e dei bagni ma un po' tutta la struttura per cui ci sono proprio dei percorsi d'acqua all'interno di tutti gli ambienti pubblici per quanto riguarda invece le camere anche in questo caso ogni bagno è stato personalizzato in un certo senso vedete come alcuni elementi come dire dello studio si riconoscono molto simile a altri progetti però dove sperimentiamo sempre prodotti e materiali diversi. Volevo farvi vedere un altro esempio della catena delle sedere di Roma che è la Boscolo dove invece spesso alcuni nostri sforzi nei confronti dei committenti rimangono soddisfatti altri un po' vani qui ci troviamo di fronte a un albergo quattro stelle che è realizzato con un budget bassissimo per cui come dire a di là degli spazi pubblici nelle camere si è cercato di risolvere il tutto con l'utilizzo di materiali diciamo poveri nel senso economici dove però abbiamo cercato di anche questo edificio aveva una certa complessità come tutti gli edifici a torre le camere che si trovano negli angoli sono come dire un tema di progetto complesso in questo caso abbiamo volevamo risolvere il tutto portando quello che è il senso del benessere un po' all'interno della camera adesso semplicemente facendo sì che alcune funzioni fossero completamente permeabili e visibili dalla camera stessa per cui per esempio come in questo caso per accedere alle funzioni del bagno si passava attraverso la doccia anche in questo caso la doccia era quasi interna alla camera e parallelamente a questo discorso avevamo introdotto anche quello alcune per esempio operazioni alcune soluzioni erano completamente trasparenti all'interno della camera e parallelamente a questo discorso avevamo introdotto anche quello del fitness cioè volevamo che all'interno delle camere fossero svolte le funzioni un po' più sportive ma poi come per esempio su alcuni aspetti la committenza è abbastanza preparata su altri non lo è per niente per cui rimangono sempre degli esperimenti la soluzione come dire finale è questa che è come dire la soluzione più sbagliata di tutte nel senso posizionare semplicemente degli oggetti così all'interno di un progetto è una cosa che non funziona non solo esteticamente ma che proprio non funziona come concetto una delle ultime operazioni che abbiamo realizzato è questo quest'altro albergo sempre di un gruppo di un operatore privato in questo caso anche in questo caso come dire ci troviamo di fronte a una struttura architettonica non realizzata da noi ma perlomeno concepita per essere un albergo sin dall'inizio per cui avevamo la possibilità di camere molto grandi e bagni molto grandi per cui è stato come dire chiudo faccio solo un come dire un lavoro abbastanza semplice quello di poter introdurre in un ambiente grande tutte le funzioni che più o meno si svolgono all'interno di una struttura dedicata a una struttura alberghiera vi faccio vedere un ultimo progetto che invece questo è l'ultimo progetto che stiamo realizzando a Milano che invece è il Gallia però volevo parlarvi vado veloce così vi faccio vedere un ultimo progetto dove in realtà il tema del domestico, del privato ha trovato un punto di incontro e si tratta di un'operazione che abbiamo fatto ad Abu Dhabi vado veloce dove, ecco, scusate eccolo qui un'operazione che abbiamo fatto da Abu Dhabi dove in realtà ci trovavamo realizzare delle residenze private residenze che avevano semplicemente la funzione di residenze turistiche per cui pur essendo degli appartamenti la loro funzione deve essere quella che il cliente saltuariamente le occupasse per andare in vacanza ci troviamo proprio sul mare praticamente in questo caso sapevamo che tutte le strutture alberghiera che si trovano vicino al mare in realtà la cura del corpo e le dimensioni del bagno sono sempre necessariamente superiori rispetto a altre tipologie di albergo per cui abbiamo come dire concepito il progetto della struttura che ruotasse intorno al bagno infatti come vedete l'ambiente bagno è proprio esploso è diventato, ha occupato una porzione molto superiore a quella dell'ambiente notte e ha assunto delle dimensioni molto più dinamiche per cui abbiamo concepito gli spazi abbiamo realizzato all'interno di questi appartamenti tre bagni per cui come dire anche un numero superiore a quello richiesto e in questo caso il cliente ha come dire accettato proprio perché a ogni bagno davamo una funzione diversa che fosse in un certo senso più intima per alcuni alcuni bagni più privata in altre addirittura siamo riusciti a inserire una mini piscina all'interno del bagno vediamo, ve la faccio vedere proprio per farvi capire come le due cose possono unirsi per esempio in questo caso c'era una mini piscina che dava direttamente sulla facciata per cui era possibile poi vedere direttamente il mare all'interno del bagno che sostituiva proprio la vasca per cui come dire alle volte si riesce a fare anche un discorso concatenato va bene? grazie bene grazie